buongiorno ragazzi e bentornati sul canale argomento connettori mc4 allora per chi non li ha mai visti ragazzi questi sono connettori che servono per collegare i nostri pannelli fotovoltaici tra di loro oppure alla linea principale che poi andrà al regolatore di carica ce ne sono diversi tipi tipo in questo caso abbiamo un maschio e due femmine ci può essere anche una femmina e un maschio oppure ragazzi ci possono essere anche un maschio tre femmine in base ai collegamenti che dobbiamo fare io ho preso come diciamo punto di riferimento questo che è più semplice un classico connettore a y per collegare in parallelo due pannelli abbiamo solamente due ingressi e un'uscita molto molto semplice però questo video ragazzi voglio dedicarlo a due argomenti particolari prima di tutto alla mal costruzione ecco voglio proprio indicarla così mal costruzione di questi connettori alla mal costruzione di questi connettori sui nostri pannelli perché vi ricordo che quando voi comprate i pannelli avete sempre questi connettori installati e vi dirò anche come costruirlo da zero quindi come progettarlo in base alla vostra esigenza e quindi lunghezza numero di connettori magari ne volete uno con quattro femmine o maschio oppure cinque femmine e un maschio insomma ragazzi come volete voi e vi farò vedere soprattutto come saldarli perché la saldatura ragazzi è una cosa che in tanti non so perché non non ci badano mai la saldatura ragazzi è indispensabile anzi vitale per il corretto funzionamento di questi connettori va bene allora prima di iniziare ragazzi come al solito invito a iscrivervi al canale attivate la campanella come vedete faccio video che interessano a tutti il 70 per cento di voi guarda i miei video costantemente però non è iscritto al mio canale ragazzi questo non mi aiuterà a crescere l'unica cosa che vi chiedo è l'iscrizione al canale per fare di questi altri video che interessano a tutti va bene allora iniziamo come prima cosa perché questi connettori mi fanno schifo va bene io infatti questo non è mio ce l'avevo così vagante sicuramente qualcosa che mi hanno regalato ma ovviamente non l'ho comprato però sono andato a guardare il prezzo di questi connettori ragazzi sono rimasto allibito 10 euro 10 euro questi connettori anzi questo connettore perché solamente questo costa 10 euro costo a parte costa a parte perché comunque ragazzi cioè con 7 euro vi comprate una ventina di maschio una ventina di femmine vedere il problema di questi connettori che oltre a questo cioè a questa forma di y il problema ragazzi è anche sui connettori dei vostri pannelli quindi a chi ha comprato i pannelli io invito a fare questa cosa per chi li deve montare lo invito comunque a fare questa piccola modifica perché ne va appunto della della salvaguarda dell'impianto cioè ne va proprio della della produzione dell'impianto adesso vi spiego il perché allora se noi andiamo ad aprire questo connettore ma sappiamo ragazzi il maschio o la femmina ok è sopra una femmina perché il maschio avevo già aperto io e sopra una femmina quindi togliamo il pressacavo togliamo la guarnizione e vi faccio vedere questa cosa qua una cosa che ovviamente ripeto nessuno sa perché non ho mai visto nessuno che parlava di questa problematica però io ovviamente un giorno che mi si è bruciato questo connettore mi sono domandato il perché allora guardate non so se si vede sì allora guardate il il connettore come collegato al filo ok guardate senza nessuna saldatura ok quindi praticamente ragazzi di fabbrica cosa fanno prendono il il connettore c'è la parte metallica prendono un cavo lo pressano quindi lo chiudono e la cosa finisce qua sbagliato sbagliatissimo ragazzi vi ricordo che in questi connettori possono passare dai 5 ampere come possono passare anche dai 50 ampere dipende dal loro stato di utilizzo quindi la cosa che dovete fare voi assolutamente cioè già il collegamento come vedete è comunque non è saldato ma è comunque a tocco cioè comunque a contatto se voi non saldate bene il filo al cavo il cavo di connessione al connettore ragazzi questo con l'andare del tempo si surriscalda si dilatta e poi non avremmo più un contatto perfetto il non contatto perfetto cosa determina determina un surriscaldamento del connettore quindi una fusione del connettore e qui ovviamente un malfunzionamento dell'impianto ovviamente oltre alle perie di carico perché per effetto giallo quando si riscalda una parte metallica sottoposta appunto al passaggio di corrente l'aumento di temperatura crea una resistenza quindi una perdita di carico ecco perché magari gli impianti sono progettati esempio per andare a 3 kilowatt o a 2 kilowatt quindi voi avete sempre il sole bello pimpante sui vostri sui vostri pannelli però inspiegabilmente i vostri pandelli non rendono ragazzi io vi invito a fare questa prova toccatevi connettori toccateli anche se sono nuovi non c'entra niente perché come avete visto ragazzi da nuovi non sono mai saldati toccati connettori ragazzi se sono caldi dovete fare questa modifica che vi sto facendo vedere io perché da questa modifica determina ovviamente la produzione dell'impianto ovviamente anche a livello di sicurezza perché se questo connettore si scalda può creare anche cortocircuiti bruciarvi l'impianto e creare disastri va bene allora quindi come già detto la prima cosa che bisogna fare è saldare questi connettori e come li saldo io ecco come li saldo io allora ragazzi io non uso come sapete non mi piace spendere in attrezzature da laboratorio particolare cioè io ci devo in laboratorio le attrezzature per i droni però per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici sono inefficienti tipo di strumentazione perché ovviamente è strumentazione questa professionale nata per i circuiti stampati perché ragazzi adesso magari sto saldando il connettore qua ma vi può capitare anche nel tetto di casa vostra per saldare il connettore ma soprattutto ragazzi non è sottoposto a dispersione termica quindi questi circuiti stampati non sono sottoposti a dispersioni termiche al contrario ragazzi di quando saldate questi tipi di cavi questi sono cavi da 6 sono completamente in ram puro e come voi sapete ragazzi il ram disperde un sacco di calore proprio succhia il calore della sorgente e lo disperde attraverso il cavo ok vi dico di già che i saldatori a stagno elettrici non servono a nulla guardate li ho provati di tanti tipi anche da 80 watt ho provato stazioni saldanti ripeto noi laboratorio con i droni abbiamo stazioni saldanti professionali ragazzi per saldare questi cavi l'unico strumento adatto è ovviamente che non vi fa non vi fa perdere tempo e che fa un lavoro fatto per bene ragazzi è questo un saldatore a gpl o a gas ok che cos'è questo saldatore a gpl a gas ragazzi ve lo dico proprio in maniera semplice è un accendino è un accendino che crea una fiamma qua nella punta quindi riscalda la punta e crea temperature molto elevate che riescono ovviamente a superire al diciamo alla dispersione termica del ram ma soprattutto ragazzi a squagliare stagno in una maniera super efficiente in modo che stagno diventa proprio liquido perfetto per saldare i nostri connettori questo saldatore ragazzi non l'ho comprato su amazon ho comprato in ferramenta qua nel mio paese l'ho pagato 9 euro 9 euro da usare ragazzi è molto semplice si ricarica con una semplice ricarica per accendini quindi come per gli accendini voi fate una pressione nella parte posteriore quindi caricate di gpl il serbatoio una volta che lui è pieno è pronto ad utilizzare ok per accenderlo è molto semplice ragazzi qua abbiamo la valvola on off una valvola sferica una ball valve quindi ovviamente come voi aprite come sentite il gpl passare eccolo qua prendete l'accendino e accendete il saldatore perfetto saldatore acceso adesso lo lasciamo riscaldare per qualche minuto quando la parte metallica diventa rovente diventa arancione è pronto a saldare lo mettiamo qua da una parte e aspettiamo un attimo allora per quanto riguarda invece il nostro connettore ragazzi vi faccio vedere come saldarlo nella maniera corretta allora prima di tutto dovete avere i connettori quindi in questo caso vi faccio un esempio col connettore femmina ma posso usare tranquillamente un connettore maschio il connettore è diviso da tre parti principali quindi la parte la parte diciamo di plastica quella che poi andrà proprio all'interno della femmina poi abbiamo la parte del blocco a cavo ok poi abbiamo ragazzi la parte della guaina ok che poi andrà proprio nel connettore e poi ovviamente ragazzi la parte metallica allora questa parte metallica una volta saldata dovete stare molto attenti a inserirla all'interno del connettore perché una volta inserita all'interno del connettore è irreversibile cioè dovete spaccare il connettore per toglierla quindi una volta che la mettete dovete essere proprio sicuri di quello che fate va bene allora io adesso giusto per prova per farvi vedere come fare questi connettori ragazzi concludo questo connettore che ho iniziato stamattina quindi iniziato con una femmina e ovviamente dovrò concludere con un maschio va bene allora come prima cosa inserisco il blocco a cavo quindi sisco blocco a cavo perché ragazzi perché una volta che poi chiudo il connettore questo blocco a cavo non posso più inserirlo dopo il blocco a cavo ci vuole questo connettore qua ok questo connettore ripeto che è classico in metallo da inserire all'interno del maschio allora come prima cosa mettiamo il cavo all'interno del connettore con delle semplici pinze ragazzi niente di particolare e facciamo un piccolo serraggio ma molto molto lieve senza stringere la morte ragazzi perché ovviamente stringendo la morte deformiamo la parte metallica e poi dopo non riusciamo più a inserirlo all'interno del connettore ok allora guardate il 60 per cento del lavoro è già fatto adesso andiamo a saldare come vedete ragazzi il saldatore è pronto la parte della retina completamente arancione quindi lui si sente già dal calore qua infatti non fa neanche a metterci la mano perché vi bruciate all'istante la parte metallica è già arancione e lui è pronto a saldare e facciamo una piccola prova con lo stagno 1 2 3 via perfetto vedete come è talmente rovente che appena vicino lo stagno guardate diventa subito liquido ragazzi questa è la temperatura perfetta per saldare questo tipo di connettore perché ripeto adesso io come appoggio lo stagno e ovviamente la punta del saldatore nel rame il rame tenderà ad assorbire la temperatura del saldatore quindi se non abbiamo calore potenza nel saldatore saldatore si sfredda e ovviamente lo stagno non diventa così bello liquido pronto alla saldatura ok adesso procediamo alla saldatura come lo facciamo ragazzi senza metterne quintali di stagno non serve da niente non sprecate lo stagno anche perché cosa un sacco di soldi quindi appoggiamo la punta nel connettore e gli diamo un po' di stagno leggero leggero così mi raccomando quando soldate dovete essere sicuri che la parte metallica ok la parte metallica sia inondata di stagno insieme alla parte del rame ok in questo modo qua perfetto come vedete ragazzi qua abbiamo una soldatura che comprende sia la parte metallica del connettore sia la parte del rame del del cavo ok lo faccio vedere anche da vicino vedete in questo modo qua ragazzi questo connettore non vi darà mai più problemi problema di surriscaldamento nessun problema di trasmissione ovviamente della corrente ragazzi questo connettore sarà in eterno cioè non si romperà mai ovviamente c'è un'altra faccia dalla medaglia che comunque ovviamente una volta che soldato non lo toglierete mai ma ragazzi secondo me lo dovete togliere prendete le pinze o ovviamente lo spellacavi o un paio di forbici tagliate il cavo e collegate un altro connettore ragazzi una volta soldato questo morirà così ok quindi mi raccomando quando soldate dovete stare molto attenti e dovete essere sicuri di quello che fate allora dopo che saldiamo ragazzi allora spegniamo il saldatore il saldatore ovviamente chiude la ball valvo quindi vedete si spegne toglie il gas e si spegne la fiamma per sicurezza lo sposto in modo che io ovviamente non mi devo scottare mettiamo la guarnizione la guarnizione va messa in questo modo qua ok la facciamo diciamo la infiliamo all'interno del connettore senza diciamo nessuna particolare manovra e poi lo colleghiamo al connettore al connettore ovviamente maschio una cosa molto importante ragazzi quando infiliamo il connettore metallico dentro il connettore di plastica il maschio ricordatevi che un'operazione a senso unico quindi una volta che lo vuole infilate non lo potete più togliere se sbagliate dovete tagliare il cavolo iniziare da zero quindi quando lo fate dovete stare molto molto attenti è una cosa che bisogna stare attenti tipo in come in questo caso che ho un maschio una femmina ricordatevi che il connettore più grosso riguarda il maschio ok il connettore più fine riguarda la femmina quindi il maschio andrà col connettore grosso ok la femmina ragazzi andrà nel connettore femmina con la parte fine ok mi raccomando non sbagliate perché se poi voi fate esempio saldate per sbaglio questo vi trovate una femmina con un'altra femmina e poi bisogna tagliare perdere un connettore eccetera eccetera la seconda cosa ragazzi quando voi infilate il connettore metallico nel connettore maschio si deve sentire un click guardate ecco qua click boh questo ragazzi non toglierete mai più perché ha delle piccole zanche che una volta pressate si aprono e ovviamente noto non si possono più rimettere a posto quindi questo connettore ragazzi questo è pronto e morirà così per vedere se avete fatto un lavoro perfetto dovete verificare che il connettore metallico sia arrivato a fine corsa come in questo caso ok è infatti arrivato a fine corsa poi ragazzi inserite la guarnizione in questo modo qua guarnizione e poi blocca cavo finito non usate particolari strumenti non usate niente ragazzi usate le vostre mani finito vostre mani e avete un connettore pronto guardate adesso sto anche tirando ma ragazzi questo connettore è perfetto ed è pronto a essere montato in altri connettori ok niente ragazzi penso che vi ho detto tutto non vi devo provvedere altro anche perché comunque è molto semplice l'operazione io invito a tutti a fare questa operazione soprattutto quando vi arrivano i pannelli nuovi ragazzi lo so è una scocciatura però io l'ho fatto in ogni tipo di pannello che mi è arrivato che sia nuovo che sia usato io ho sempre tagliato i connettori ho comprato questi connettori glielo ho soldati glielo ho fatti io magari è per questo che non mi si è mai bruciato un connettore ma soprattutto ragazzi non mi si è mai bruciato un fusibile da quando ho messo il video del fusibile un paio di settimane fa del fusibile che poi ho messo per fare i paralleli alla seconda stringa molti di voi mi hanno fatto notare che da loro questi connettori non hanno funzionato si sono fusi eccetera eccetera allora ragazzi da me non mi sono mai fusi in tre anni che ho i pannelli perché magari ho fatto questa operazione qua ok quindi prima di montare i fusibili i connettori perché magari noi diamo la colpa ai fusibili però magari è proprio lui il problema che surriscaldandosi trasmette il calore al fusibile poi lo rovina ragazzi guardatevi i fusibili ok per chi ce l'ha già installati io vi invito a fare questa verifica per chi deve installare fatela a prescindere ragazzi questi connettori costano 7 euro e ve le danno una ventina cioè sono cifre irrisorie in confronto alla rottura di scatole che avete dopo il montaggio perché comunque una volta montati i pannelli ragazzi questi connettori vanno sotto i pannelli da qua a lavorarci è davvero un problema quindi fatelo prima i pannelli di Laura Merle mi sono già arrivati io ho già fatto questo lavoro sui pannelli e in questo modo qua ragazzi penso di non avere mai problemi diciamo negli anni a venire come non mi sono mai arrivati problemi con la prima e con la seconda stringa che io ho già montato perché ragazzi come ho detto questi connettori vedete questi connettori non sono saldati sono solamente stretti magari sono stretti bene sono stretti male noi non lo sappiamo ma nel dubbio è sempre meglio ragazzi tagliare e montare nuovi connettori date il rete a me per un paio di euro ovviamente vi togliete il pensiero e avete ovviamente un lavoro molto più pulito e ovviamente ragazzi un lavoro anche molto più sicuro va bene io penso di non dovervi dire altro ragazzi quindi come al solito se avete piaciuto questo video lasciate un like cortesemente ma la cosa più importante l'iscrizione al canale ragazzi cortesemente iscrivetevi al canale per favore per aiutarmi a crescere perché come vedete faccio video che interessano a tutti ciao e buona giornata grazie